Su 4 consiglieri eretti ha 3 consiglieri donne, classificatesi tutte e 3 ai primi posti, relegando il povero maschietto al quarto posto. Confrontato con un partito democratico che invece elegge solo una donna in consiglio provinciale e lascia le altre addirittura a zero, quindi dando il senso di meri riempivista, questo veramente mi inorgoglisce.